E' proprio il connubio tra l'esercito e la famiglia. Le forze armate viste attraverso gli occhi dei figli dei militari in servizio. Calende Esercito 2014, realizzato con i disegni di 12 bambini, racconta la vita e gli affetti di chi per lunghi mesi resta lontano dalla famiglia per servire il proprio paese e garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Un rapporto, quello con i familiari, che a migliaia di chilometri di distanza diventa ancora più profondo. E' la base su cui si fonda tutta il valore, l'etica di ogni militare, di qualunque grado, di qualunque ordine sia. Ed Esercito e Famiglia è proprio uno dei quattro temi che illustrano il mondo dell'esercito, i sentimenti, il momento dell'azione, la solidarietà. E quindi ha un valore sicuramente affettivo, non è solo un valore simbolico, è un calendario in cui traspare l'emozione delle famiglie. E su Calenda Esercito 2014 anche un personaggio ben noto ai più piccoli, Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista che mese per mese commenta a modo suo i dodici disegni.